eccoci qua con l'acquisto del giorno la mascotte e la vacanza la gallina come si chiama la gallina non volevo dire un nome non mi ha venuto in mente la gallina e vabbè un cappello questo qua serio che parla per esempio buongiorno si chiama la gallina di campiglio buongiorno gallina di campiglio parla pure fantastico buongiorno winster tutto bene va bene va bene se sto bene però che saluto anch'io gli amici da casa ciao ciao aspetta che guarda eccoci qua fa caldo fantastica ha fatto colpo sulla milfotta giù al ristorante giusto c'è una milfotta di 60 anni che è rimasta colpita alla gallina becchi cookie cookie milfotte vabbè va salutiamo ci vediamo magari dopo al ristorante ci vediamo ciao